Applauso per Rupert Everett, un'altra grande icona del cinema internazionale premiato dal sindaco di Taormina, no no no, devi ricevere il premio addirittura doppio premio, come miglior regista e come miglior attore Vero? Questo è incredibile Grazie Prego, il sindaco di Taormina Mario Bolognari Facciamo un applauso al sindaco di Taormina, che è la città che ci ospita Ciao Oh, è molto pesante Grazie mille, è fantastico Facciamo arrivare anche l'altro, così lo consegniamo Intanto sindaco, grazie anche a lei, grazie a Taormina per l'ospitalità Salvo, questa sera noi dobbiamo fare Sono stato anch'io colpito Dobbiamo fare un patto Io, tu, il sindaco di Messina, la regione siciliana, l'assessore Pappalardo Di fronte a tutti questi testimoni, questo deve essere il giorno di un nuovo inizio Di un nuovo inizio Per riportare Taormina Arte, il Taormina Film Festival A ciò che era fino a qualche anno fa Grazie Eh sì, Rupert, there is another award Quindi facciamo entrare l'altro premio perché sono due i premi per Rupert ed è sempre il sindaco che lo consegna, quindi due premi per te Fantastico Sì, ti era mai capitato in un altro feste a ti ricevere Non so come faccio per avere due e parlare Allora, guarda Allora, ti chiediamo un saluto Sì, grazie mille Non lo sapevo che erano due, è fantastico Abbiamo voluto premiare questo tuo impegno in regia e comunque dare un riconoscimento ad una grande carriera di attore Grazie, grazie mille, è fantastico Grazie, grazie Grazie, grazie sindaco anche per le belle parole Grazie Grazie a te Rupert Everett, doppio premio Teniamola ancora ovviamente un po' sul palco Vieni anche tu sindaco Ecco, benissimo, facciamo anche questa foto e intanto continuiamo a salutare il pubblico che ci segue anche attraverso le varie emittenti che sono collegate con noi Grazie Rupert Everett